Partiranno a gennaio i lavori del People Mover, non ci sono possibilità di ritardi e perentorio Piero Collina, presidente del Consorzio Cooperativo e Costruzioni, che sulla vicenda Civis dice siamo estranei alla trattativa tra Comune e Irisbus. Niente permesso per Anna Maria Franzoni, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respinge la richiesta della mamma di Cogne che sta scontando la condanna a 16 anni nel carcere della Dozza. È in costante aumento il numero degli immigrati in Emilia-Romagna che supera l'11% della popolazione totale. La nostra regione è al primo posto in Italia per percentuale di alunni stranieri nelle scuole. Nella prossima legislatura verrà abolito il vitalizio per i consiglieri regionali. L'annuncio arriva dal governatore dell'Emilia-Romagna Vasco Errani nell'ottica di tagliare i costi della politica. Nelle prossime settimane in arrivo altri provvedimenti. Calcio, seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Bologna, vittorioso per 1-0 sul campo del Chievo con una rete di acqua fresca. Migliora la classifica dei rosso-blu che ora devono sfatare il tabù del Dallara. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG Bologna. In apertura questa sera parliamo ancora di viabilità e infrastrutture, questa volta non strettamente del Civis che come sappiamo è bloccato e sta ancora suscitando molte molte polemiche ma parliamo del People Mover perché a gennaio a quanto pare partiranno i lavori. Lo ha assicurato Piero Collina, presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni. Non esistono possibilità di ritardi, ha detto Collina che chiede però anche che si sblocchi proprio la vicenda Civis. È il punto nel servizio di Giuseppe Piloni. A gennaio si comincerà con la fase costruttiva del People Mover. Non ci sono possibilità di ritardi. Ad assicurarlo è Piero Collina, presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni. Nonostante la Giunta Merola prenda tempo per fare approfondimenti, Collina non ha dubbi e invita a non fare parallelismi con la vicenda Civis. Bisogna affrontare il tema in modo completamente diverso. Questa è un'opera in project financing. Il bando è stato pubblicato, l'appalto è stato assegnato e c'è un progetto esecutivo già definito. Senza contare che il People Mover continua ad essere considerato un'opera importante da parte delle istituzioni, sottolinea il presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni. Dunque, assicura Collina, a gennaio si comincerà con la fase costruttiva. Al momento non esistono possibilità di ritardi. E per quanto riguarda il Civis blocchetto dal sindaco Mero, la Collina spiega. Noi siamo estrani alla trattativa tra il Comune di Bologna e Irisbus. Speriamo vada in porto presto, così sarà possibile riprendere l'attività perché la necessità di riportare al lavoro la gente c'è. Alternative non ce ne sono, aggiunge Collina. Il mercato langue, la ripresa del percorso Civis è importante. Dunque, ribadisce il presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni, se si sbloccano i mezzi si sblocca anche la parte edile. E del Civis si è parlato anche in Commissione Mobilità. Palazzo d'Accursio, il presidente di ATC, Francesco Sutti, ha riepilogato le tappe della vicenda e parlando dei lavori del Civis ha indicato le responsabilità dei ritardi nell'associazione di imprese che ha vinto l'appalto del Trams Gomma. Di fronte ai consiglieri comunali, Sutti ha parlato di ritardo clamoroso della consegna dei progetti esecutivi. Sutti ha anche spiegato che l'erede del Civis si calerà in un sistema di trasporto basato sui filobus e collaborante con il servizio ferroviario metropolitano. Una rete complessivamente di 138 chilometri e 131 filobus per la quale i progetti ci sono, ha concluso Sutti. Un primo passo per cercare di diminuire i costi della politica arriva dalle regioni che oggi hanno deciso all'unanimità di abolire il vitalizio, cioè la pensione riservata ai consiglieri regionali. Ad annunciarlo è stato il presidente della conferenza delle regioni, nonché governatore dell'Emilia Romagna, Vasco Errani. Sentiamo. Stop ai vitalizi per i consiglieri regionali, già dalla prossima legislatura. La decisione arriva dai diretti interessati. L'abolizione della pensione è stata infatti votata all'unanimità dalla conferenza delle regioni che vede a capo il governatore dell'Emilia Romagna, Vasco Errani, d'intesa coi presidenti dei consigli regionali. È un passaggio fondamentale, ha spiegato lo stesso Errani, nel processo di autoriforma dell'istituzione regionale che stiamo portando avanti. L'obiettivo è contenere i costi della politica in una fase così difficile per il Paese, in cui sono sempre più drammatici i tagli ai fondi per il asporto locale, per non parlare della carenza di risorse da destinare alla protezione civile, alla difesa del suolo, come dimostrano i gravi eventi di questi giorni in Liguria e in Toscana. Le regioni sembrano non volersi fermare qui. Dopo l'annuncio, entro sei mesi dell'abolizione del vitalizio dei consiglieri regionali, nelle prossime settimane ci saranno altre decisioni, sempre nel segno del contenimento dei costi della politica. Porteremo questi elementi alla Commissione paritetica per l'autoriforma dell'istituzione della Repubblica, aggiunge Errani, alla quale chiediamo che almeno la prima riunione ci sia anche il Presidente del Consiglio. A questo proposito, Errani ha sottolineato come i rapporti fra il Governo e le regioni abbiano purtroppo un segno negativo. Il Governo, ha detto, continua a procedere in modo unilaterale, con atti che, lungi dall'essere coerenti con l'impostazione federalista, creano ulteriori problemi. Un esempio è senza dubbio l'emergenza che riguarda il trasporto pubblico locale. L'esecutivo ha riconosciuto che un taglio del 70% delle risorse, dice Errani, significa non poter garantire un servizio. Aspettiamo le proposte del Governo, conclude, per poter dare soluzione a questa questione. Non ci saranno permessi premio per Anna Maria Franzoni. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha confermato il no ai permessi richiesti dalla mamma di Cogne, condannata a 16 anni per la morte del figlio Samuele. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legari della donna contro la decisione del magistrato di respingere la richiesta di permessi premio per poter stare con il marito e i figli fuori dal carcere. La Franzoni, rinchiusa la dozza a Bologna dal 2008, ha usufruito di un permesso per i funerari del suocero il 31 agosto del 2010. È stato presentato questa mattina il dossier statistico sull'immigrazione elaborato dalla Caritas in Emilia-Romagna. Il fenomeno è in continua crescita. Tra i dati più importanti, la grande incidenza degli alunni stranieri nelle nostre scuole. Sentiamo Simona Iannessa. Alunni stranieri nelle aule delle nostre scuole. Il record che si guadagna all'Emilia-Romagna che in quest'ultimo anno ha raggiunto il primato del 14% di immigrati sul totale degli studenti. Aumenta anche l'incidenza dei residenti stranieri sulla popolazione. Si attesta all'11,3% mentre si ferma il trend della crescita rispetto agli anni passati. Questo è il quadro che emerge dalla fotografia scattata sulla scuola. L'Emilia-Romagna accoglie sui banchi più di 82.500 alunni stranieri. Analizzando i numeri più nel dettaglio si scopre poi che l'incidenza è più alta nella primaria e secondaria di primo grado, siamo intorno al 15%, mentre nei nidi la percentuale di bimbi stranieri si ferma al 9,2%. Altro capitolo importante riguarda il lavoro. In Emilia-Romagna il 19,8% dei lavoratori complessivi è di nazionalità straniere ed è occupata prevalentemente nell'industria, nel settore alberghiero, delle costruzioni, dei servizi all'impresa e dell'agricoltura. I paesi più rappresentati restano la Romania, il Marocco, l'Albania e la Cina. Il 7,5% dell'imprenditoria poi è costituito da giovani stranieri che decidono di mettersi in proprio e tentare la strada del lavoro autonomo. Sul fronte fisco e previdenza è infine meglio sfatare il mito secondo cui gli immigrati rappresentano un onere più che una risorsa per i conti pubblici. Sono l'11,3% dei residenti, ma solo l'1% delle spese di welfare è rivolta a loro, mentre hanno versato oltre 800 milioni di euro di contributi alle rispettive casse previdenziali. Stando alle stime del dossier, su 544 mila residenti, il 10% del totale risulta irregolare sul nostro territorio. L'altro dato che fa pensare è che il 44% di questi giovani che sono nelle nostre scuole sono nati in Italia, quindi potrebbero essere, dovrebbero essere considerati italiani a tutti gli effetti. Invece noi sappiamo che per la normativa vigente questi ragazzi non diventano italiani, pur essendolo, per legge, soltanto se non da un anno dopo il 18esimo compimento d'età e se ne fanno domanda. La cronaca è doloso l'incendio che questa notte ha distrutto una Mercedes classe B, parcheggiata in via Duse in zona San Donato. Le fiamme hanno anche danneggiato altre due macchine vicine. Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti verso le due, quando l'auto era già avvolta dalle fiamme, il proprietario della Mercedes, un pensionato di 62 anni, avrebbe detto agli agenti di non aver ricevuto minacce e di non sapersi spiegare il gesto vandalico. Alla vigilia della festa per il 151esimo anniversario della nascita, la Polizia Municipale di Bologna è sul piede di guerra per il mancato pagamento della produttività e degli straordinari. Questa mattina il sindacato Sulp ha messo in atto un presidio e ha annunciato il possibile ricorso alla magistratura. Sentiamo. In un anno e mezzo circa 15.000 ore di straordinari non pagati agli agenti di Polizia Municipale per un monte di 150.000 euro. Il sindacato di categoria Sulp non ci sta e il giorno prima della festa per il 151esimo anniversario del corpo scende in piazza per incontrare i cittadini e spiegare che i vigili non fanno solo multe ma lavorano per garantire la sicurezza. 464 veicoli ritrovati, 832 denunce, 197 arresti e 213 fotosegnalamenti solo nell'anno 2010. Il sindacato chiede al sindaco, che domani premerà proprio un vigile urbano per aver salvato la vita ad una persona, gli arretrati della produttività e degli straordinari. Questa amministrazione non si sta comportando bene con la Polizia Municipale. Sembra che abbia poco rispetto per il lavoro che quotidianamente portiamo a casa. Un anno e mezzo di straordinari non pagati e questi soldini a nostro giudizio ci sono perché 37 milioni di euro portati a bilancio come sanzioni amministrative lo confermano. Gli agenti di Polizia Municipale inevitabilmente accumulano lavoro straordinario quando effettuano i rilievi di un incidente stradale o quando portano a termine un arresto. Non possono certo piantare tutto alla scadenza precisa dell'orario di lavoro. Se continuerà questo tipo di stallo chiederemo alla magistratura civile di intervenire e di farci pagare a queste straordinarie che noi abbiamo già lavorato. E non mancano i commenti politici. L'iniziativa dei vigili urbani è paradossale che da un anno e mezzo il Comune di Bologna non paghi gli straordinari dipendenti della Polizia Municipale sottolinea la consigliera regionale dell'Udc Silvia Noè. Se riesce a trovare i soldi per pavimentare Piazza Verdi o per pedonalizzare il centro Perity Days deve prioritariamente riconoscere questo lavoro che viene esclusivamente svolto per azioni di pronto intervento e Polizia conclude appunto la Noè. Sul tema intervengono anche il consigliere regionale e il capogruppo del PDL in Comune Galeazzo Bignami e Marco Lisei che auspicano che quanto prima si provveda a rispondere quanto dovuto ridare dignità a un corpo attualmente mortificato. Un altissimo numero di domande per un alloggio pubblico proviene da persone sole o non anziane. Rappresentano quasi il 40% del totale. Il motivo risiede nello spezzettamento delle famiglie. Il dato emerso dalla Commissione Territorio del Comune di Bologna convocata da PD e PDL per fare il punto sul patrimonio comunale. Sentiamo. Le domande presentate al Comune di Bologna per avere un alloggio popolare sono più di 9.500 con un aumento di quasi il 70% rispetto al 2007. Di queste quasi il 40% proviene da adulti soli. Effetto viene spiegato in Comune dello spezzettamento delle famiglie. Sono invece in calo 1.600 contro le 2.000 degli scorsi anni. Le domande per gli alloggi a canone calmirato segnale questo di uno schiacciamento verso il basso delle situazioni di povertà. Ma a sorprendere è l'alto numero delle persone sole non anziane che hanno fatto domanda di alloggio pubblico. Il PDL in Comune avanza il dubbio che questo dato non corrisponda a realtà. Il sospetto dei berlusconiani di Palazzo da Cursio è che si tratti di persone che risultano separate per guadagnare punteggi in graduatoria ma nei fatti non lo sono e le verifiche sono oggettivamente difficili. Ma l'ufficio gestione dell'azienda casa di Bologna replica che in realtà ogni anno vengono compiuti 22.000 controlli e che ogni anno viene fatta una rilevazione su ogni assegnatario per verificare i requisiti di idoneità. La Lega Nord è invece interessata al numero di stranieri titolari di alloggio pubblico. Per l'ACER si tratta di un 10% contro l'88% di italiani e un restante 2% suddiviso tra cittadini comunitari e persone giuridiche. Il canone medio pagato per un alloggio pubblico è di 127 euro e a fine anno l'introito complessivo per il Comune sarà di 18,6 milioni di euro. E noi ci fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Momento insieme con ITG, rivediamo subito gli argomenti principali di questa sera. Partiranno a gennaio i lavori del People Mover, non ci sono possibilità di ritardi e per Entorio Piero Collina, presidente del Consorzio Cooperative Costruzioni, che sulla vicenda Civis dice siamo estranei alla trattativa tra Comune e Irisbus. Niente permesso premio per Anna Maria Franzoni, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respinge la richiesta della mamma di Cogne che sta scontando la condanna a 16 anni nel carcere della Dozza. È in costante aumento il numero degli immigrati di Emilia-Romagna che supera l'11% della popolazione totale. La nostra regione è al primo posto in Italia per il percentuale di alunni stranieri nelle scuole. Nella prossima legislatura verrà abolito il vitalizio per i consiglieri regionali. L'annuncio arriva dal governatore dell'Emilia-Romagna Vasco Arrani nell'ottica di tagliare i costi della politica. Nelle prossime settimane in arrivo anche altri provvedimenti. Calcio, seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Bologna, vittorioso per 1-0 sul campo del Chievo con una rete di acqua fresca. Migliora la classifica dei rosso-blu che ora devono sfatare il tabù del Dallara. Proseguiamo con il giornale. Appassionati di storia militare provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento sull'Appennino Bolognese ed hanno ripercorsi i luoghi della linea gotica che furono teatro di sanguinosi combattimenti. Vediamo. Un raduno di mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale nei luoghi dove si decisero le sorti del conflitto. Si è svolto sull'Appennino Bolognese in quei territori che erano percorsi dalla linea gotica. Qui si aprì la strada alla liberazione definitiva dell'Italia dall'occupazione nazista. I mezzi militari hanno percorso le strade di Monteriva, Monte Belvedere e Monte Castello. Nei comuni di Lizzano in Belvedere e di Gaggio Montano. Luoghi che furono teatro di sanguinosi conflitti. Protagonista di questo raduno la mitica Willis, jeep ampiamente utilizzata dalle truppe americane durante la campagna d'Italia. Tutti i mezzi originali messi a disposizione dai collezionisti per questa occasione e i partecipanti a questa rievocazione hanno indossato anche le divise dell'epoca per creare un'atmosfera suggestiva. E se ne sono viste di tutti i tipi, comprese quelle tedesche. Una iniziativa promossa da Vanespozzi di Vidiciatico che ha coinvolto altri appassionati di storia militare provenienti anche da altre regioni e che ha avuto come obiettivo quello di ricordare momenti difficili della storia dell'Italia facendo tappa nei luoghi della memoria. Presente all'iniziativa anche il sindaco di Gaggio Montano, Maria Elisabetta Taneri. Manifestazioni di questo tipo rivestono sicuramente una doppia importante funzione. La prima è quella di promozionare meglio e di più il nostro territorio, farlo conoscere, un territorio che ha, come si può notare, molte implicazioni positive dal punto di vista ambientale. L'altra importante funzione è quella di fare conoscere la nostra storia, una storia importante da cui passava la linea gotica, quindi gli episodi che possono essere ricordati e rievocati sono davvero innumerevoli. E trovo comunque che farlo in questo modo, in un'atmosfera di assoluta condivisione, di assoluta amicizia, sia quanto serve per rielaborare queste memorie molto dolorose. Si è tenuta l'altro pomeriggio nella sala grande della Prefettura la presentazione del volume Palazzo Caprara a Montpensier, sede della Prefettura di Bologna. La pubblicazione, che rientra nell'ambito delle iniziative per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, offre un quadro a tutto tondo del Palazzo sotto il profilo storico, istituzionale, architettonico, pittorico e urbanistico. L'opera, voluta dal Prefetto Angelo Tranfaglia e curata dal Professor Angelo Varni, si avvalsa anche dalla collaborazione di studiosi ed esperti. In occasione della presentazione è stata inaugurata anche una mostra di vesti talari appartenute al Cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, messa all'esposizione dal Museo Civico Medievale e dal Museo del Risorgimento e abiti originali del periodo delle Duchesse di Galliera. La mostra resterà aperta fino al 12 novembre, dal lunedì al sabato. Ci fermiamo ancora per qualche istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, ancora alcune notizie prima di chiudere, innanzitutto parliamo di calcio, come abbiamo visto nei titoli la vittoria del Bologna di ieri a Verona contro il Chievo è stata molto molto importante, la seconda vittoria in trasferta per i Rosso Blu che dopo il successo di Novara conquistano anche tre punti importanti sul campo del Chievo, con una buona reazione soprattutto nel secondo tempo, mentre il primo tempo è stato piuttosto sofferto la ripresa del Bologna, visto la rete di acqua fresca e quindi la vittoria dei Rosso Blu che si portano adesso in una posizione di classifica un po' più tranquilla e cercano di sfatare soprattutto il tabù del Dallara. Ancora nessuna vittoria, anzi soltanto sconfitte per il Bologna in casa, naturalmente se ne parlerà questa sera nel corso della edizione del pallone nel 7, infine una segnalazione che riguarda la FANEP, Associazione Famiglia e Neurologia Pediatrica, domani e dopodomani a Villa Gandolfi Pallavicini a Bologna esiterà un convegno nazionale sull'epilessia in età evolutiva, presiedero sarà il professor Emilio Franzoni, sempre la FANEP promuove nei locali di Villa Gandolfi Pallavicini la mostra fotografica a Benedetti Teatri che sarà inaugurata domani pomeriggio, si tratta di un viaggio attraverso i palcoscenici più o meno famosi di Bologna e provincia. Siamo in chiusura, non c'è più tempo, non mi rimane che salutarvi, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di ETV.